Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Questi mondiali con quattro partite al giorno mettono a dura prova la capacità di poter essere collegati e in diretta con i contenuti. Ci provo, sono naturalmente in ritardo e chiedo scusa, in questo video parlo infatti di Portogallo-Ghana che si è giocato ieri nel tardo pomeriggio. A discapito dei cinque gol e della vittoria 3-2 del Portogallo, credo una delle partite più brutte fin qui giocate in questo mondiale. Il voto alla gara per me è 5, questo perché le due squadre si sono espresse entrambe al di sotto dei loro valori. Il Ghana ha scelto una tattica eccessivamente difensiva presentandosi con un 4-5-1 completamente rinunciatario. Il Portogallo ha fatto molta fatica a trovare spazi da davanti, ha giocato a un ritmo molto lento, molto lezioso. Nel corso del primo tempo ha avuto anche poche occasioni di andare in rete, l'unica scena dove poteva forse esserci veramente un calcio di rigore vero. L'arbitro americano El Fat ha deciso di non intervenire, il VAR naturalmente la Moviola si è fatta agli affari propri, si è andati alla pausa su uno 0-0 brutto, noioso, con un Joao Felix inguardabile e una gara veramente brutta. Nel secondo tempo per arrivare al gol che ha sradicato questo muro messo su dal Ghana, il Ghana rappresenta a mio avviso proprio il male che ha fatto l'Europa il calcio di alto livello, diciamo ai giocatori africani. Perché gente di valore, di fisicità, di grinta anche come potrebbe essere la squadra africana, impaludati in una tattica eccessiva e portata fino al massimo di non presentarsi mai sostanzialmente dalle parti della difesa portoghese, peraltro neanche in serata particolarmente brillante, rappresenta quanto di male ha fatto il tattico calcio europeo, ha invece la forza fisica e quasi l'ingenuità tattica dei giocatori africani di una volta. Peccato davvero. Il gol naturalmente è arrivato con il più classico dei rigorini. Ronaldo, eravamo al minuto 65, è entrato in area, è stato affrontato da Salisu, una leggerissima spinta, un leggerissimo contatto, qualcosa che neanche ha subito, probabilmente sarebbe stato fallo. Ronaldo cade come colto da proiettile e l'arbitro americano non trova meglio da fare che regalare un calcio di rigore al Portogallo. Purtroppo la Moviola non interviene, non fa cambiare idea all'arbitro e il Portogallo trova il vantaggio sull'ennesimo rigore farsa di questi mondiali. Credo che invece di preoccuparci dei recuperi fiume fatti con il lancio dei dadi, probabilmente se agissimo veramente una volta per tutte su che cosa è rigore e su che cosa no, faremmo un servizio migliore al gioco del calcio. Portogallo in vantaggio quindi 1-0 e lì però, proprio approfittando della debolezza, almeno della partita di ieri, della difesa portoghese, il Ghana riesce a trovare anche il pareggio. Pochi minuti dopo, esattamente 8 minuti dopo, infatti Cancelo, che sarà anche il giocatore più forte del mondo, come Adani o altri commentatori del calcio d'élite moderno, ci vogliono fare credere, però in zona difensiva è veramente in difficoltà. Si fa superare alle proprie spalle, il cross al centro trova con la vecchia Volpi di Aiu una carriera, realizzare reti da tutte le parti, soprattutto in Inghilterra, pronto a trovare il punto del pareggio. Siamo 1-1, anche Danilo collabora a sbagliare, Ruben Diez non è così veloce nella chiusura, siamo in un punteggio di parità. Lì ci mette un po' del suo, l'allenatore Addo, che con delle sostituzioni assurde indebolisce sicuramente la squadra. E poi ci sono ancora gli errori e sale soprattutto in cattedra Bruno Fernandes, che sicuramente non vincerà mai la palma del giocatore più simpatico della storia del calcio, perché è un grande provocatore, anche lui con una certa tendenza a lasciarsi cadere, diciamo. Però da un punto di vista tecnico è sicuramente un giocatore di grande valore ed è proprio lui a trovare in un'imbucata la palla che permette a Joe Felix, fino a quel momento, non il peggiore in campo, ma forse uno dei peggiori giocatori del mondiale, di trovare la rete del 2-1 che riporta la gara da reparti del Portogallo. Bruno Fernandes non cala, anzi serve un altro bellissimo assist a Leao appena entrato e il Portogallo sembrerebbe chiudere la gara portandosi sul 3-1, ma invece proprio per questa tremenda serata della difesa portoghese arriva anche il 3-2 di Bucari appena entrato e poi nel finale il portiere Diogo Costa riesce a farsi scippare la palla quando vuole fare la naturalmente folle costruzione da dietro e il Ghana arriva a un passo dal confezionare il clamoroso pareggio. Come detto, quindi una partita di vorrei ma non posso assoluta, una partita credo insufficiente da parte di entrambe le formazioni, il Portogallo così non credo possa andare da nessuna parte, naturalmente poi diventerà campione del mondo magari, ma credo che dovrà fare qualcosa sicuramente di più. Ronaldo si è sbattuto, ha combattuto, l'ho trovato comunque in una buona forma da questo punto, dal punto di vista agonistico, è sempre il solito vincente. Il Ghana mi ha deluso per una tattica troppo rinunciataria, credo che fosse una partita quantomeno da cercare di azzannare, non solo da limitarsi a difendere. Il Portogallo ha, come dicevamo, sicuramente nel centrocampo, che comunque ha controllato per gran parte della partita il gioco senza offendere uno dei punti di forza. là davanti Leao, credo che potrebbe guadagnare qualche minuto in più anche magari dall'inizio e in generale credo si sia un po' da registrare, chiedo scusa, la difesa. Veniamo alle pagelle. Per il Portogallo, 5 al portiere Diogo Costa, 5 a Cancelo, assolutamente a mio avviso una gara insufficiente per il giocatore del Manchester. Ruben Diaz 5,5, Danilo 5,5, Guerreiro 5,5, Ruben Neves 6, Bernardo Silva 6, Bruno Fernandes 7, Otavio 5, Ronaldo 6,5, Joao Felix 6, 6 all'allenatore Santos, positivo l'ingresso di Leao. Per quanto riguarda il Gana, 6 al portiere Zigi, 6 a Seidou, 6,5 a Martei, 6 a Giku, 5,5 a Salisu, 6,5 a Babà, 6 a Partei, da cui forse un pochino di più però me lo sarei aspettato, 6 a Salis, 6,5 a Kudus, male nel primo tempo, si è acceso molto bene nella ripresa, assurdamente sostituito, 6,5 a Yu e 5 a Williams, totalmente lasciato solo in avanti. 5,5 all'allenatore Addo, 5 all'arbitro americano del FAT, 33 falli, 6 cartellini e un rigore assolutamente incredibile concesso al Portogallo. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale e fatemi sapere come vi è sembrato questo debutto del Portogallo e se anche voi vedere queste squadre africane che non giocano più con l'entusiasmo di una volta, non dà dispiacere, io lo dico da grande amante del calcio africano. Grazie a tutti, un bacio e ciao da Vox. Iscrivetevi al canale, ciao, ciao.